Ben ritrovati dalle finali nazionali di Caorle, siamo qui con la prima coppia finalista Daniele Rupo ed Edgar Torx. Daniele, com'è stato arrivare in finale con un nuovo socio? Ciao a tutti, è stato un onore giocare con il mio nuovo compagno Edgar, purtroppo è solo per questa tappa, mi sono trovato benissimo, per me è veramente un onore che sta qui, ma comunque deve essere anche un grandissimo prestigio vedere un campione come lui giocare il campione italiano. Che dire, grazie Edgar e avanti tutta. Edgar, come è stata la tua esperienza di giocare nell'Italian Championship? È un grande livello, i spettatori lo amano e sono davvero onore che Daniele mi chiede di giocare con lui in primo lugar. Sì, è un grandissimo livello, onorato di aver ricevuto l'invito da Daniele e grandi spettatori, grande organizzazione. Come ti senti per rinunciare le finali italiane? È una grande pressione, tutti i team sono forti, tutti i team sono forti. Una grande pressione perché tutte le squadre sono molto forti, però sono qui e ci daranno dentro alla grande. Daniele, ancora a te un'ultima domanda, quali sono le difficoltà che avete incontrato nella prima parte delle finali? Perché siete arrivati dalla parte dei perdenti, insomma. Sì, abbiamo perso contro Matteo Ingrosso e Dal Molin, ci siamo trovati in difficoltà, però siamo stati bravi a ritornare. Grazie a entrambi, ringrazio tutti e restate sintonizzati nei canali social della Federazione per i prossimi aggiornamenti. Grazie.